no tu non puoi farlo no ma così perché no 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 mai io non ci rinuncerò mai proprio bella forse così mi sono trovata a fare una scena d'amore con mio padre che non è il massimo poi a essere violentata la mattina a fare una suora al pomeriggio a fare un cattore animato la sera alla fine dormi a casa e dici ma chi sono? veramente non riesci a smettere di sorridere vero? addio soltanto quanto io abbia sognato e per quanto tempo tutto questo sposare James rendere completa la mia famiglia è un bel sogno che diventa realtà perché io e Ilaria ma dove ci sentiamo? che siamo i due deficienti del gruppo perché è bene dirlo questo ci divertiamo ogni tanto a farlo in un'altra maniera e come? cioè nel senso noi facciamo vedere la scena sempre sonora poi sul mudo e poi ci divertiamo a farla invece io scappo il contello mi sono stupendo no non dirmi ti prego contello non riesco a pensare una cosa del genere è troppo importante mi dispiace tu puoi andare con mio fratello già ci sono stato purtroppo bravo grandi un po' tutti siamo rimasti quasi a bocca aperta di fronte all'acrobazia e degli sciatori d'acqua professionisti ma mai avremo